Non c'è il flashback, come dicono i teorici, informazione a cascata, quando uno arriva vuole capire tutto quello che succede, quindi vi ripeto ciò che ho detto prima, e ho anticipato che parleremo della questione Stadi, che abbiamo già affrontato in parte ieri, e anche questo lo ricordo, sulla scia della polemica e degli Giacchius fatto dal gran patron della Fiorentina commisso, che ha detto tante cose, che abbiamo anche quelle approfondite, ma una in partita ha detto io, Franchi è bellissimo, è un capolavoro dell'architettura della sua epoca, ma io voglio fare uno stadio nuovo di proprietà, ci metto i soldi e le burocazie, non me lo impediscono. Allora abbiamo parlato del tema di Inter e Milano, annoso, che fare di San Siro, le società hanno comprato dei terreni, la notizia, anticipata in parte ieri e confermata oggi, che le due società hanno deciso di non disgiungere il loro destino, rimarranno comunque in uno stadio e sono pronti a investire insieme un bel pacchetto di soldi, vedranno Sala, sindaco di Milano venerdì, però insomma tutti i particolari, poi discuteremo, sono nel servizio che ci ha preparato Jacopo Giavento. Mi sembra la soluzione migliore, credo proprio che l'idea di creare due stadi fosse anche difficile da un punto di vista di sostenibilità, credo che questa sia la strada giusta, poi decideranno loro quale delle varie ipotesi prendere in considerazione, ma il fatto che siano collegate, che siano alleate sicuramente dà una maggior possibilità di positivo risultato. Anche il Presidente di Regione Lombardia, Tilio Fontana, benedice la nuova ipotesi che si sta concretizzando nelle ultime ore, ovvero Milan e Inter ancora insieme in uno stadio condiviso. In un San Siro ristrutturato oppure in un nuovo impianto, ma si esclude a questo punto la possibilità di due nuovi stadi costruiti ex novo. I costi lievitati negli ultimi mesi hanno convinto le due proprietà che sono tornate a collaborare, essendo entrambe americane, a trovare un'unità di intenti, almeno sulla gestione delle finanze che un progetto simile può comportare. L'azienda WeBuild, che ha presentato un progetto di riqualificazione di San Siro, ha ipotizzato una spesa attorno ai 400 milioni di euro, per i club sarebbe invece di circa 700 milioni, che andrebbe poi sommata al prezzo di acquisto dell'impianto. Un'operazione da circa 800 milioni di euro totali, cifre leggermente inferiori rispetto a quelle ipotizzate nel caso del Milan, per lo stadio di San Donato milanese. La nuova previsione di spesa, aggiornata con documentazione ufficiale depositata in Regione Lombardia, è di circa 1 miliardo 281 milioni di euro, contro i 948 milioni iniziali. Costi non sostenibili per un solo club, mentre con una coabitazione il percorso potrebbe essere molto meno velleitario. Molto passerà dall'incontro di venerdì tra Milan, Inter e il Comune di Milano. Il sindaco Beppe Sala spera davvero di ottenere almeno un mezzo sì da parte delle due società. WeBuild garantisce l'utilizzo continuo dell'impianto anche durante le stagioni calcistiche dal 2025 al 2028. Decisivo sarà il prezzo che verrà fissato dall'Agenzia delle Entrate. Solo dopo quel passaggio formale, ma obbligatorio, Milan e Inter sceglieranno la strada da imboccare, che comunque vada, sarà percorsa insieme. Quanti dubbi? Allora, Inter e Milan, come va a finire? Gli rimangono tutti e due a San Siro o che costruiscono da qualche parte insieme? Io sono molto, invece, sto molto pessimista sulla questione. Nel senso che... Nel senso che non vedi niente, rimaniamo com'è? Allora, fino adesso ne abbiamo passate, direi, miliardi di occasioni. Tra l'altro, quando usci... Ah, non miliardi di soldi per farlo. No, beh, la burocrazia sicuramente ci ha messo il suo. Tra l'altro, prima rivendicavi anche magari dei diritti di notizie. Quando usci, tu non eri ancora arrivato tra di noi, quando usci la notizia che l'Inter doveva andare a Rozzano per costruire lo stadio, noi fumo i primi. Abbiamo fatto una diretta. O l'avete tenuto per voi? No, no. Però poi hanno... I giornali, i giornali, il giorno dopo... Sono andato nel buio, nello scherzo, scherzo, scherzo giocando. Noi ci siamo precipitati di notte al buio in questo terreno. Abbiamo fatto un collegamento in esterna, quindi eravamo sul pezzo e dopo tutti hanno riportato la notizia e tutti sono andati a cercare la zona. Detto questo, io rimango pessimista perché ci ha provato Berlusconi con il famoso stadio dell'ex Portello. Ci ha provato Moratti. Io seguì questa cosa qui molto da vicino nell'area dell'ex Marocchetti. Moratti che fu fermato non solo dalla burocrazia ma dai costi di bonifica e dalla presenza di quattro orti in un terreno in cui quattro contadini rivendicarono il diritto dell'uso capione, offrirono tantissimi soldi a queste persone e loro non andarono via e quindi lo stadio lì naufragò. Il Comune di Milano non è stato un grande alleato fino ad adesso di Inter e Milan. Perché poi sta a San Siro. Però c'è questo altro problema che da cittadino milanese, perché lo stadio è del cittadino, perché Milano e Inter pagano un affitto e questa è un'altra delle follie di questa situazione. La preoccupazione è, mi sembra di capire, più di carattere formale che di altro, perché il Comune si preoccupa e ma se vanno via che cosa succede con l'impianto. Tanti dicono che è un peccato andare via perché lasciare quell'impianto così bello è un peccato. San Siro non è poi tutto da buttare. San Siro per questo tipo di problema ha rinunciato alla finale di Champions. La UEFA nell'ultima finale di Champions che ci fu giocato a San Siro diede le 5 stelle. Quindi è un impianto che ha bisogno di ristrutturazione ma non va assolutamente demolito. Non è quei stadi così vecchi, antichi che ci sono. 8 anni fa. Però Ricci, un conto è demolirlo. Un conto è che una società o l'altra o insieme, come in questo caso, sembra prendere una decisione e si costituiscono uno stadio. Perché secondo me è questione di tempistiche. Cioè io il sentimento lo lascerei un po' fuori perché queste sono logiche commerciali. Perché l'abbiamo detto anche prima in presentazione. Cioè non avere gli stadi ti comporta avere una riduzione di entrate pazzesche. Non puoi fare attività collaterali, non puoi creare niente. C'è un cibo, cibo. Poi noi, e quindi secondo me, cioè io anche quello che chiedo, non capisco, a parte i tempi burocratici, non capisco perché Milan e Inter siano così, perché tu adesso mettevi sotto accusa il comune, ma Milan e Inter perché sono così poco decise? Cioè, hai capito? Perché prima si sono fatte immediaticamente la guerra dove ognuno avrebbe costituito il proprio stadio. E hanno gonfiato il petto, no? Beh, hanno fatto dei passi comunque. Io ho compro il San Donato, io faccio qui e faccio la... Hanno fatto dei passi, sicuramente. Cioè, a parte la burocrazia, cambiano idea continuamente anche loro. Sì, voglio sentire il giovane Milano. Ma io, sicuramente Paolo dice cose giustissime. Io sono particolarmente legato a San Siro, mi dispiacerebbe. Ha ragione Riccardo, secondo me, se... Però tu ti ha detto una cosa, dopo io su questo ti dico, anzi te la dico subito, scusa se ti ho interrotto, poi ti faccio finire. Sicuramente in questa vicenda l'elemento fascinazione sentimentale, monumentale di San Siro conta, no? La scala del calcio. È uno stadio che, rispetto all'epoca in cui è stato costruito, è molto moderno, no? Perché ha ancora una buona visuale, pure se è alto. Ha gli spatti attaccati alle porte, non ha la pista d'atletica. Secondo me San Siro è molto vecchio nelle strutture interne, perché lo citavo, non so se ieri o l'altro ieri, quando sono andato a Madrid, ti ricordi che per premio avevo fatto fare la serie sugli stati, no? Così voi andavate in giro per l'Europa a vedere le partite, io stavo a Cologno a montare i pezzi. Però insomma, al di là di questo, poi gli sono andato pure io, e io ho detto, voglio andare al Bernabeu. Voglio andare a vedere il Bernabeu, se il direttore va a vedere uno stadio, se è andato a vedere una partita di Cempio, di cui avevamo i diritti, con i colleghi, c'era Piccinini che faceva la telecronaca, c'erano i miei inviati, i miei tra virgolette. Io mi ricordo che l'albergo era 200 metri dal Bernabeu, ci siamo andati a piedi, 90.000 persone sono entrate nello stadio così, e poi chiesi a livello architettonico, c'era una struttura tubolare intorno, dove tu giri tutto intorno, dove in questa struttura tubolare c'è il museo, le Gendas, dove hai preso l'idea per un forma. E adesso pensa che l'hanno rifatto. Ho fatto un form, chiamato The Legend, sempre per loro, regalato a loro per fare le prime serate di premium, quando non c'erano gli eventi, le Gendas più bello di The Legend. Poi c'era il posto per comprare, mi chiamò mio figlio e ho detto portami la cosa di Ronaldo. Dopo i soldi di Milan-Liverpool. Speso di più per lì. Poi c'erano i ristoranti, poi c'erano ospitati, poi c'erano una serie di sbocchi, tu entri nei vari punti dello stadio e all'incontrario riesci e defluisci in città. Ma magico, perché veramente dici... Ma il nuovo stadio, la ristrutturazione del Bernabeu, è costata tra gli 800 milioni e miliardi. Sì, c'erano di miliardo, sì. Però l'hanno fatta. È ciò che si dovrebbe fare. L'hanno rifatto la camera. Con addirittura... L'hanno ristrutturazione. C'è, ristrutturazione. Con addirittura 8 campi. No, sicuro ragazzi, hanno abbattuto Wembley, che era il simbolo del calcio mondiale. Wembley, un mito. L'hanno abbattuto. Anche il vecchio stadio dell'Ars. L'hanno rifatto. Ma Wembley era il mito. Wembley era il mito per tutti. Sono riusciti ad abbattere l'inglese e a rifarlo. Cioè, San Siro non ci si riesce. Ma ditemi perché. Non ho tirato fuori poi. Sentiamo l'intimo il nostro giovane. Te lo ha interrotto. Scusa, dito di parola. Scusa, te lo ha interrotto. No, non c'è assolutamente problema. Io concludo dicendo che... Conclude, è appena cominciato. No, perché io sono corricchi. Nel senso che a me dispiacerebbe se San Siro venisse abbattuto. Per me si può fare come è accaduto al Bernabeu. Cioè, è una ristrutturazione probabilmente costosa. Sì, perché comunque ci sono dei lavori da fare. L'hanno tirato giù tutto il Bernabeu. Cosa? L'hanno tirato giù tutto il Bernabeu. Non è che hanno fatto una ristrutturazione. Sì, hanno fatto otto campi. L'hanno tirato il campo, l'hanno rifatto. Cioè, hanno fatto tutto quello che loro hanno rifatto. L'altro giorno alla regia aveva mandato delle grafiche molto belle, credo, del Bernabeu. Non so se ce l'avevano. Non so dove l'hanno trovata, se si può. Sai ogni tanto qui nascondo le grafiche. Secondo dei conduttori c'è uno, non scherzo, è una battuta. Però erano molto belle quelle immagini perché si vedeva esattamente che poi il campo diventa campo da tennis. I livelli. I vari livelli che possono passare. C'è anche un livello, se vuoi giocare l'NBA, lo puoi fare. È tutta una questione di... Molto bello. Però c'è il tema, torniamo un po' a noi, no? Però basterebbe molto meno. Torniamo al tema. Siamo a Milano, siamo in una città simbolo di Lombardia. Prima abbiamo visto il Presidente della Regione a Tio Fontana. Molti dei politici che sono alla testa delle istituzioni lombarde dicono che questa non è manco una regione, è un land, così come in Germania, come in altre cose. Terenzio è una delle terre più ricche d'Europa, anche quelle più evolute a livello industriale. Se non si fa qui, Bargigia, la vedo dura. Va durissima, non dura. Sono durissima. Perché insomma è un po' Milano, è un po' un laboratorio. A Torino l'abbiamo fatto però. A Torino ci siamo riusciti. Ci voleva arrivare. C'è stata una situazione particolare a Torino. Hai dovuto portare... Cominciamo, cominciamo. La situazione è particolare. Cominciamo. Particolare nel senso, non per fare interiove. Qua addirittura è saltato fuori i beni culturali che ti hanno imposto di non demolire una parte dello stadio che è storica rispetto a una... Capisci? Quindi fortunati in quel senso. Cioè qui ti muovi per mettere un... Secondo me San Siro è uno stadio molto bello perché comunque ha le 5 stelle da parte dell'UEFA che però ha difficoltà ad adeguarsi al nuovo calcio. Devi capire poi a cosa servono queste 5 stelle. La finale di Champions era un... Però, ripeto, si è adeguato... Ha avuto i primi problemi che ha avuto San Siro. Stato nel 90, quando hanno fatto il progetto per Italia 90, tu ti ricorderai benissimo. Come no? E all'improvviso si accorgono che non possono fare i 4 anelli sopra perché c'è l'ippodromo a destra. Quindi hanno fatto 3 anelli. Hanno messo i seggiolini. Hanno diminuito i posti. Oggi è vero che è uno stadio bello, però i posti dove costa di più il biglietto, sedersi è un problema. Perché ci sono i seggiolini vecchi, uno alto, un 80 come me, ha difficoltà. Questo per dirti che... Spesso vado con le ginocchia. Va ristrutturato. Non si può andare avanti così. Io c'è bisogno di un resto. Le soluzioni comunque si sono. Allora, scusa, faccio questo discorso perché riconosco, Marcello aveva ragione, che l'Allianz Stadium di Torino è bellissimo. Devo dire che la prima volta che sono andato e visto la partita in un modo magico, che ha poi un sistema interni di ristoranti, di ristorazioni di diverso livello, di diversa accessibilità, appena entri a sinistra il negozio, se vuoi, appunto, ricordo, vuoi comprare una cosa e merciandai, sono soldi, no? Perché... Che comunque puoi dire... Pensate quante magliette di Ronaldo... E ha mosso tutto un indotto, eh, lì... Poi, insomma, voglio dire, andare allo stadio è un piacere, se me lo concedi, andava messa a posto anche la mobilità intorno, che le vie di accesso... Stati, l'hanno fatto, eh? Tu sicuramente conoscerai quel quartiere lì, quel quartiere lì, era un quartiere molto disagio, si chiama il quartiere delle Vallette, no? C'è tra l'altro anche un carcere, non era bello, c'erano gli zingari, c'erano solo case popolari tenute malissimo, baci adesso a vederlo con me. Io l'ultima volta non l'avevo visto la Champions, completamente a riqualificare. Un paio d'anni fa per fare il primo semaforo abbiamo messo 45 minuti, però lo dico perché se poi... Però nella percezione del nuovo godimento dello spettacolo calcio c'è anche il fatto che io non devo avere l'angoscia di andare due ore prima e non devo avere l'angoscia di uscire mezz'ora prima, c'è anche questo, insomma, per questo ho parlato di come si accetta a Berra. Detto questo, la Juventus è una società che ha uno stadio di proprietà e che ha anche un bellissimo stadio dove credo ci possa fare anche soldi, perché si va, si mangia, si si dice una criticità, no Marcello, che praticamente è stato preventivato male il numero degli spettatori. Sì, è troppo piccolo. È piccolo. Però era stato fatto... No, siamo qui, 40 mila. 40 mila. È piccolo. 42 mila. Ma era stato fatto sulla base di una statistica, cioè quando l'hanno costruito si sono viste la statistica delle presenze dei tifosi al vecchio delle Alpi, quello che era stato costruito per Italia 90, visto che parlavamo prima dei mondiali del 90, ed era troppo grande perché era 81 mila e passa a posti. Siccome lo riempivano sempre per 40 mila o si riempiva per 60, 70, 80 mila solo in alcune occasioni tipo Juve Inter, Juve Milan, Juve Real Madrid, eccetera, allora decisero di fare uno stadio più piccolo che conteneva soltanto un 42 mila persone e renderlo sempre pieno. Per me è stato un errore perché si poteva sicuramente almeno fare di 50 mila. No, questa non è la prima volta che sento parlare di questa scelta, però se è stato un errore, è stato un errore. Però molte volte si sono pensati. Sì, perché i tifosi si lamentano. Non per avere 100 mila persone, ma per avere un numero di persone limitate. No, 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 per la sicurezza e per la godibilità dell'evento. Ma perché c'è la volta che abbiamo progettato impianti che appunto schiorano 50 mila, non sono per questo faraoni, il Maracanari, il Belga, cioè stati enormi o Camp Nou, proprio per permettere una gestione migliore del flusso delle persone e anche della loro collocazione spazio della visibilità. Quello sì, però, se parli della squadra che ha il maggior numero di tifosi in Italia, devi dare uno stadio con un determinato tipo di numeri. Tu dicevi prima come si vede una partita, adesso passiamo al come si gode una partita che è nettamente diversa. N'Europa lo sanno fare molto, molto. Vorrei velocemente introdurre un altro commento perché poi noi parliamo sempre degli stadi di club più famosi, però in Italia c'è una situazione stadi anche tra la Serie B e la Lega Pro a ghiacciante. Cioè non dimentichiamo, per esempio, ed è questa, questa è la punta dell'iceberg, ma là sono inquietanti. Non so, per esempio, vado a memoria, l'anno scorso la Cremonese aveva dovuto, allozzini, aveva dovuto giocare la prima gara di Coppa Italia fuori perché non era pronto, non erano finiti i lavori. Il Como, adesso il Lecco, quando venne promosso ha rischiato di non iscriversi, lo spezia qualche anno fa, ricordo che andò a giocare 5 gare a Cesena, a 300 chilometri di distanza. Il Como esordisce, mi ho visto prima il calendario, che gioca a sabato, dopo tre partite esordisce a Senigallia con una deriva. Cioè, ragazzi, l'anno scorso la Terrapi Salone, la Terrapi Salone, la Terrapi Salone, la Terrapi Salone, del problema stadi in Italia, in Italia, perché di quello dobbiamo parlare, vediamo questa grafica che abbiamo avuto, prendendo soprattutto come fonte panorama, l'età media dei nostri impianti, vedete, è quasi 70 anni, gli stadi di proprietà in serie A sono 3 su 18, quindi tra il 60 e il 70% sono di proprietà pubblica, gli stadi di proprietà in serie B 1 su 20, investimenti sugli stati rispetto al resto d'Europa, 1%. Bargigia, che famo con questi numeri, dove andiamo? Usciamo... Guardali bene. No, uno potrebbe dire finalmente, ah, siamo passati... Bargigia? Ah, scusami, no. È un po' buon dico, Gian Bruno, stasera. Scusa, scherzo. No, rivediamo i numeri, c'è un indicatore... Rivediamo i numeri a metà con la faccia di Bargigia, poi non li inquadriamo, va a caso... No, 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 non è vero, non soffro di faccionismo, dai. Scherzo, sto giocando, dai. Sì, sì, no, ma no, infatti, ma c'è un indicatore che può farci sperare tra questi? Secondo me no. Cosa c'è di... L'ultimo è drammatico. Di meno drammatico. L'indicatore è che domenica... Cioè, 1 su 20 in B, 3 su 18 in A, 4 su 38 al totale. Però, allora, il tema è questo, no? Perché torniamo un po', scusa, cosa volevi dire, a parte scherzi, che è buono, prego? No, a parte il fatto che uno legge 3 su 18, non perché la Serie A finalmente è tornata a 18 squadre, ma perché c'è il fatto che San Siro e l'Olimpico sono condivise, così lo diciamo, a margine di chi lo vede. Però domenica, a Bergamo, inaugurano finalmente il Ghevi Stadium. Con quella grande ristrutturazione, con la curva al sud rifatta, e sotto c'è un impianto tutto con negozi, con la possibilità di entrare, tu ti fai l'abbonamento direttamente. Quindi, un piccolo passo in avanti, dichiarazione di percassi non molto tempo fa, abbiamo preso esempio, girando l'Europa con l'Atalanta, per vedere come erano fatti gli stati. Quindi, forse un piccolo passo, stadio di proprietà. Ma giusto, anche Udine, anche se è una storia diversa, perché hanno rifatto quell'impianto, più o meno, sostanzialmente. Ma un sottoproblema, per esempio, con le Under-23 siamo in ritardo. Perché anche le Under-23 non giocano negli stadi dove gioca la più spada? La Juve gioca ad Alessandria? No, la Juve gioca a Biella da quest'anno. Ha giocato ad Alessandria, hanno ristrutturato lo stadio di Biella apposta per permettere alla Juve di giocare. mentre invece le women giocano a Biella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Next Gen, allora, la Next Gen giocava... Ah, la Next Gen giocava... Alessandria, la Primavera a Vinovo, giusto. La Next Gen ad Alessandria, la Primavera a Vinovo e le women giocano invece a Biella. No, però questo l'anno scorso. E adesso si sta studiando un progetto di costruire a fianco, sempre lì nella continassa, a fianco dello stadio dell'Allianz, uno stadietto di 10.000 posti sia per le women che per la Next Gen. Vabbè, ma quello ha senso, secondo me. Però adesso, al di là, che anche questo è un tema, io vi volevo dire, tornare un po' a giacchiusi di commisso, no? Perché se lì c'è un proprietario che ha la voglia, la visione, ci mette i soldi, certo anche lì c'è un monumento architettonico che è stato costruito durante il fascismo, se non sbaglio, però insomma se a prescindere... Cioè è uno stadio che è una firma per certi versi, no? L'ho detto dove devi prendere e battere, però uno stadio nuovo serve a una squadra, oggi, anche il franco è piccolo. Sì, che poi anche lì è un paradosso, perché è uno stadio molto grande, ma è fatto male, soprattutto per i canoni... È fatto male se in generale è moderna. Allora, io dico, qual è il problema generale per cui non si fanno gli stadi? La difficoltà... La burocrazia, la burocrazia prima di tutto, ma subito dopo, scusa Claudio, subito dopo, i comitati di quartiere, cioè quelli sono micidiali, sono peggio del comune, guarda soltanto a San Siro, adesso che adesso... Anche a Parma, eh. ...che prenderanno in mano di nuovo l'idea di fare di nuovo lo stadio per l'intera e Mila, a San Siro vedrete che si risveglieranno i comitati di quartiere locali, perché sono solo un'accidia, eh. Hai ragione in pieno, perché io professionalmente l'ho vissuta in prima persona quando Berlusconi voleva fare lo stadio all'ex Portello, lì avevano ristrutturato, avevano creato dei palazzi e avevano venduto anche a un costo molto alto a metro quadrato. Nel momento in cui Barbara Berlusconi presentò il progetto, perché c'è stato un plastico dello stadio nuovo, i comitati di quartiere hanno detto io ho investito qua dei soldi, nessuno mi ha detto che c'è lo stadio, qui lo stadio non si fa, perché tu sai benissimo che lo stadio non vuol dire solo flusso di persone, ma vuol dire parcheggio e mobilità. Quindi io, i comitati hanno detto, voi c'ete venduto questo appartamento con il verde davanti e con un determinato tipo di posti, vissuto in prima persona, e non fate lo stadio. E alla fine con gli striscioni fuori dagli attaccetti… Però io voglio allargare il ragionamento, perché la parola burocrazia per me vuol dire tutto e vuol dire niente. Ma Paolo, c'è un tema anche qui del governo, che è un governo del calcio, cioè del governo del calcio in senso stretto, le istituzioni che governano il calcio e del governo che governa tutto, per cui anche il governo del calcio, non so se sono stato chiaro. Poi qualche riforma la puoi fare, qualche semplificazione la puoi fare. Parliamo della riforma e della semplificazione in altri campi della società, alla pubblica amministrazione, al digitale, la sburocratizzazione tradizionale. Oggi noi siamo entrati in un'altra epoca, ne abbiamo discusso tutti i giorni, specie dopo il Covid, allora… Sugli stadi no, ma sugli stadi no. E allora però, quando diciamo burocrazia, sembra quasi un peso kafkiano, involontario che nessuno vuole affrontare. Chiamiamola la politica, Claudio, chiamiamola anche politica, chiamiamola anche politica. In teoria mi avrebbe chiesto un parere, però voi fate pure, dopo io parlo. Non ti offendere adesso, dai, mamma mia, è un dibattito. Siete bulimici, siete bulimici. Adesso vi faccio il nuovo tempo ancora fino a mezzanotte, a un certo punto vi rifiuterete di rispondere quando vi parlo. Tenetevele prima di addormentarvi, perché dai entro mezzanotte. No, scherzo no, voglio dire, secondo me è chiaro che il concetto di burocrazia è troppo generico, è chiaro che pur un litigioso mondo del pallone che ha tante pecche, a mio avviso, gli stadi da solo, fra virgolette, non può farseli, ma avrebbe bisogno di una sensibilità del governo e di un aiuto. Però, onestamente, sono cambiati i governi e vedo che le istituzioni calcistiche continuano a reclamare scarsa attenzione, sia a livello di fiscale, di contributi, di sgravi, eccetera, eccetera. E secondo me, se manca quella cosa lì, non riesce ad andare avanti già in un percorso tortuoso. Quindi, come vedi, allora io ho ragione, le responsabilità molte ci sono. Certo, certo. Cioè, i due governi possono lavorare insieme per risolvere alcuni di questi problemi, perché con quei numeri lì, quei numeri indicano un problema di sistema, non più un problema non solo di alcuni. No, certo. Il problema è che un governo dei due, quello del calcio, è terribilmente diviso, perché se tu, tu, Federcalcio, non hai un minimo di sostegno dalle leghe, cioè la lega ti fa la guerra, cioè da quanto tempo parte della lega, l'Ottito, dell'Orentis fanno la guerra gravina, no? E quindi se sei un interlocutore debole e diviso, è chiaro che gli altri magari sono in altre faccine, ma la faccenda non ti aiuta. Faremo vedere, quando arriveremo sotto le elezioni, le sette componenti del potere del mondo del calcio, le leghe, A, B, E. Sì, sì, anche il peso nelle votazioni, no? È abbastanza anacronistico. Succede un po' come in America, i delegati che ha, i numeri che esprimi. Sì, è abbastanza anacronistico. Facciamo vedere, perché secondo noi se ne parla sempre in astratto. A maggior ragione di questo che diceva Paolo, allargherei il campo non solo al calcio, perché lo sport in generale, noi in Italia abbiamo degli impianti e delle strutture sportive. No, no, è tutto collegato. Piste d'atletica, stati di hockey, palazzetti dello sport, tutti con dei problemi. Cioè il problema è generale. Poi la burocrazia, certo, perché tu la semplifichi dicendo che è la burocrazia, però quando tu devi togliere un mattoncino e ti dicono no, fermati perché questo è un bene culturale storico, non puoi farlo, il calcio lì non c'entra più niente. Sì, hai ragione. Ma infatti non ho nominato questo calcio, ho parlato dei due governi, un governo stretto calcistico e un governo complessivo, perché poi è chiaro che devi interagire anche perché poi quando si parla di territori, amministrazioni, poi si va ai comuni, i comitari, i quartieri, Scusa, ma il tema stadio a Roma? Il tema stadio a Roma? Adesso lo affrontiamo con il nostro amico romano, però insomma le notizie della settimana riguardano Milano e le interviste di commisso, queste sono due cose e noi ci abbiamo messo però per esempio un reportaggio che io ho intercettato al volo, ma non è nuovo perché anche quando facemmo l'indagine sugli stati nel 2013-14, quando il direttore di Sportmedia venne fuori che eravamo indiettori a Turchia. La cosa brutta è che sono passati dieci anni più e non abbiamo fatto un passo in avanti questa statistica europea, allora questa cosa non va bene, ultima cosa per chiudere questo tema e poi cominciare a parlare delle squadre quando torniamo e andiamo a Roma, che torniamo a Roma perché non ci siamo ancora andati stasera, ma le colpe invece mentali di visione dei capi delle squadre, dei presidenti, che per anni hanno vissuto solo dalla ripartizione di diritti, non l'hanno avuta secondo me la visione dello stadio, no? E questo oggi abbiamo visto. Però tanti presidenti lo vorrebbero fare, De Laurenti si lo vorrebbe fare, Commisso lo vuole fare, Lottito lo vuole fare, la Roma lo vuole fare, la volontà c'è di fare gli stati. L'ho fatto ogni volta, oppure ci sono speculazioni che poi vengono intercettate dalla magistratura e bloccano tutto. Berlusconi e Moratti ci hanno provato, perché anche questo va detto. De Laurenti sa anche il proposto, mi pare, abbassare il livello del campo. Io sono d'accordo con lui, tu quando vuoi fare una cosa, sì, ci sono delle difficoltà, ci sono delle problemi, sono d'accordo, abbiamo illustrato tutte, però io sono convinto che per anni in Italia si è vissuto con l'idea che la ripartizione dei diritti televisivi fosse sufficiente a tenere in piedi il sistema o le casse delle singole squadre. È un atteggiamento passivo verso il concetto di diritto che non c'è in Inghilterra, dove i diritti valgono tre volte, poi noi fatichiamo a prendere i diritti del nostro brand, diciamo calcistico all'estero, ma questo è un altro problema, ma se in Inghilterra i diritti valgono tre volte, nonostante questo hanno degli stati straordinari, hanno sconfitto il fenomeno degli hooligans, hanno creato un meccanismo dove andare allo stadio, perché poi anche questo tema lo dobbiamo dire, la sicurezza, la semplicità, come abbiamo detto prima, la vivibilità, la percezione visiva, la gioia, la festa, su tutte parole importanti, ma anche la sicurezza. In Inghilterra hanno risolto in vent'anni tutta una serie di problemi che noi non abbiamo ancora risolto. È vero, l'abbiamo detto l'altro giorno, i temi di sicurezza dei passi avanti sono stati fatti pure da noi. Milano devo dire che, toccando ferro, i d'aspo e la terra, il tifoso un po' mi ha aiutato. Claudio, sempre conseguenti purtroppo a situazioni spiacevoli, tornelli dopo che succede il caso Raciti, c'è capito? Devi aspettare sempre che c'è qualcosa. Però quello che volevo dire, in Inghilterra, dove pure i diritti valgono il triplo, si è agito su questa idea perché c'è stata una visione industriale di quello che era il valore dello stadio, che è sicuramente un sistema che l'ha favorito, adesso non sto a dire che le colpe sono, però secondo me se vogliamo dare uno sguardo completo alle difficoltà che avete detto voi, tutte vere, si aggiunge anche un fatto. Come sapete le imprese hanno anche un imprenditore che ha una visione delle cose. Ora sì, ora negli ultimi anni tutti lo vogliono, tutti hanno capito che funziona, ma si poteva cominciare prima a volerlo. Alla fine è stato fatto, poi qualcuno l'ha avuto e l'ha fatto, no? E allora, insomma... Però voglio dirti, come sai, all'epoca quando io giocavo al sport e mi scrisse, diceva a lei mi piace che non è giuventino, non è antiguventino, a me ne frega niente. Io dico che quando c'è da riconoscere i meriti a una grande società, quella è una grande società che ha visto quella cosa e l'ha fatta, appunto. Ma io infatti, scusami Claudio, ma non capisco, per tornare a Milano, come due grandi club famosi nel mondo, perché Milano e Inter sono conosciuti nel mondo, non riesco in una città come Milano, la land di cui parlavi te, la land più ricca d'Italia, è una delle land più ricche d'Europa, a fare due stadi. Oh ma è tanto difficile, cioè a Londra ci sono dieci stadi più Wembley, dieci stadi più Wembley. A Madrid abbiamo parlato di Madrid, beh l'Atletico Madrid si è fatto il suo stadio, c'è il Metropolitano che ha 80.000 posti, e la Madrid ha battuto il suo, la stessa cosa a Barcellona, a Barcellona ci sono due stadioni. È un mistero Marcello, e io ripadisco quello che ho detto all'inizio, finché non vedo non credo, quindi va bene, si incontrino venerdì, ma io purtroppo... Senti, qualcuno mi scrive, ci stanno seguendo da casa, no? Qui c'è qualcuno che c'è? Sì, sì. È qualcuno che non riesce a muoversi e a cambiare canale? No, mi ricordo che no, ma seguono anche il tema, no? Perché mi scrivono... Il tema è appassionante, oh! Sì, no, perché mi scrivono, anche quelli che tu hai costruito li fatti, Italia 90, Bari e Torino, fatti con i piedi con la pista d'atletica, cioè fatti male in partenza, no? Sì, sì, zero in Giminazzi. Poi mi dicono, vabbè, Torino... Hai dovuto abbattere, Torino li hai dovuto rifare da capo. Eh, eh, cioè, quindi male anche quando riesce a fare delle cose, no? Eh, ma lì c'era la fretta e poi c'erano forse anche un po' di tangenti in mezzo a Italia 90, no? Quindi bisognava farli, bisognava farli. No, facciamo un'altra trasmissione, però secondo me mancano pochi secondi, poi chiederemo al collega di Roma dell'Olimpio, richiudiamo il quadro. È l'ora del nuovo blocco. È l'ora del nuovo blocco, però secondo me, io ripeto, le cose che abbiamo detto oggi si incrocano tutte. Credo che la prossima settimana ci rincontreremo qui con la notizia che Inter e Milan, pur avendo comprato i terreni, rifaranno San Siro. Credo, eh? Forse mi sbaglio, non mi sbaglio. E quindi, così almeno, però facciamo un passino avanti, insomma, almeno... Speriamo, perché io sono dubbioso su questa cosa. Prendano esempio. Il presidente della legione Lombardia che dice diventa impossibile fare due stadi in una città. Londra, ne ha detto prima Marcello, ne ha dieci. Dieci? Cioè, non credo che sia... Rozzano e San Donato sono due poli completamente distinti dove si può fare. Poi, burocrazia, viabilità, perché poi c'era quel problema lì. Comuni interessati, non si sapeva se Rozzano o se età. Io sono dubbioso, poi per carità. Vabbè, staremo a vedere. Allora, qui discutevamo di noi stessi, del nostro format, parliamo sempre di televisione. Vogliamo chiudere un po' questo argomento Milan con le ultime battute su Fonseca. Insomma, Fonseca deve dare un bello scatto di reni per finire quel filotto di partita che abbiamo visto, perché sennò Milan, alla prossima pausa della nazionale, che non è a Natale, ma è il 10 ottobre, quindi l'autunno è ancora lungo, ci sono ancora tante partite di Champions. Ricordiamo che la Champions, quest'anno si gioca anche a Natale il campionato, e la Champions finisce il turno preliminare, il vecchio turno nel fine gennaio. C'è anche la Supercoppa di cui oggi sono state uscite le date, quindi sarà un inizio di gennaio complicato. E' proprio strutturale come progetto il percorso che dicevi tu prima di Fonseca, perché è vero che si diceva prima, arriva a Firenze, ma se, ma adesso non voglio, ma parlo di numeri, se dovesse perdere ad esempio il derby e perdere anche magari fare un pari a Firenze, eccetera, rischia di essere a ottobre a 10 punti dalla prima. Certo. Ieri l'ultimo nome che è stato fatto è stato Bonera. No. Ah, dall'Under 23, no. Ma anche Paolo Sosa. Continua con Fonseca. Dicono che sia molto bravo però. Paolo Sosa. Ne parlano molto bene. Sentiamo Chirico, che dici? Ne parlano molto bene di Bonera, però non vorrei che facessi la fine di Brocchi. Ve lo ricordate Brocchi quando venne preso anche lì? Ne parlavano bellissimo. Adesso il nostro Giambuolo ha perso la battuta su Brocchi, però insomma gli hai un po' sfuggito. No, no, non è che la perdo. Poco fa tu hai detto Filotto e io pensavo agli otto giorni di Fonseca tra il Venezia e il derby, ci sono otto giorni. Alcune le evito per il Filotto. Questa non è la perdo. No, le voglio evitare perché altrimenti... Ci sono delle battute che quando uno chiede di spiegarle vuol dire che non funziona. però adesso sono una cosa che succede. Alle 23.06. L'Inter... A me basta che rida Mosconi. Fiavica della formazione dell'Inter. L'Inter... Oh, abbiamo cambiato argomento. L'Inter... Eccola qua. Questa dovrebbe essere la formazione che scende in campo. Mi sembrava strano. Niente turno 9 neanche sto giro. No, c'è, c'è. Che ne pensiamo? Censi di Mischi, Cansu Augusto. Allora, secondo me potrebbe esserci... Al posto di D'Arbian potrebbe esserci D'Unferis. C'è un piccolo dubbio su Barella eh. Eh, appunto. Perché Barella pada un intervento al naso e... Il cambio di Barella è frattesi, diciamo, può essere tranquillamente... Ecco, ma questo Frattesi di cui abbiamo parlato ieri, ne abbiamo parlato come metodo, come simbolo, anche per Baldanzi, e oggi rivediamo un po' con le immagini della gazzetta, vediamo se ce la danno, perché c'è la sala di sopra, ma a tutta pagina c'è Frattesi, più Inter per Frattesi, insomma, una richiesta del giocatore, una richiesta del ragazzo. Siete sponsor di Frattesi, insomma. Però devo dire una cosa, io ho seguito, seguo l'Inter, seguo le partite dell'Inter, c'è un po' una contraddizione con il Frattesi nero-azzurro e il Frattesi nazionale, perché il Frattesi dell'Inter l'anno scorso è stato molto incisivo a gara in corso, io mi sono andato a rivedere tutte le prestazioni di Frattesi dall'inizio dell'Inter e Frattesi non ha giocato benissimo dall'inizio, adesso non voglio dire che lui sia un giocatore da un'ottima mezza. Ma non si può fare un ragionamento così, è stato un caso che c'entra. No, no, non è stato un caso, sono più partite che ha giocato dall'inizio e non ha inciso, però sto dicendo una cosa, quest'anno c'è una novità, cioè quest'anno l'Inter è stata strutturata per poter essere competitiva in tutte le competizioni, quindi è ovvio che Inzaghi, che è un allenatore molto intelligente, troverà spazio, si cercherà di trovare spazio per Frattesi. Io credo che Frattesi tra Monza e City e Milan avrà sicuramente un minutaggio. Io ho dubbi su Barella perché Barella esce da un infortunio, infatti si è operato al naso, quindi potrebbe non essere al 100%, quindi a Monza secondo me potrebbe anche giocare Frattesi sfruttando anche l'entusiasmo. Però vi voglio dire una cosa, prego, prego. No, è tutto verissimo, però diciamo anche che l'Inter gioca con Mkhitarya e Nebarella, che sono due giocatori fondamentali per Inzaghi, cioè togliere Mkhitarya e Nebarella ad Inzaghi e all'Inter significa togliere una parte dell'ingranaggio molto importante. È vero che Frattesi è sicuramente un giocatore di qualità, però Frattesi è arrivato all'Inter l'anno scorso, dopo aver fatto un'ottima stagione al Sassuolo e un percorso di crescita più che normale. Quindi io non ci vedo niente di strano per un giocatore comunque così giovane, tra virgolette, fare fatica ad entrare da titolare. Ma infatti è Frattesi che dovrebbe pensarci un attimo. Esatto, nel senso che io penso che sia Frattesi che ha voluto andare all'Inter pur sapendo, conoscendo la situazione dell'Inter. Lui stava andando alla Roma, lui era stato trattato dalla Roma. Quindi adesso è lui che dovrebbe capire se vuole ricontinuare a fare altre stagioni, sempre all'Inter, partendo sempre dalla maniera. Un giocatore come Frattesi sarebbe titolare, penso, dappertutto, nella Juve, nella Roma, nel Milan. C'è solo una chiave di lettura tattica, una ragione per cui, secondo il calcio di Inzaghi, gioca poco. Cioè Frattesi, rispetto ai due compagni di reparto, Michitano e Nebarella, è altrettanto bravo ad attaccare lo spazio e a giocare in fase di possesso. Però gli altri due sono bravi anche a giocare sotto palla, a riempire gli spazi quando la palla li hanno gli avversari. Frattesi non è un giocatore tanto disciplinato, tatticamente, o tanto evoluto. È una mezzala che ha tempi di inserimento pazzeschi e che in area sente la palla in un modo incredibile. Cioè sente la palla come un centro avanti. Ma infatti le coppie è una punta aggiunta. Ma a livello tattico, fra virgolette, è un po' meno completo di Michitano e Barella. Secondo me hai detto bene, è tatticamente un po' in scena. E' un motivo per cui Inzaghi fatica a rinunciare a Barella a Michitano. Io ti dico la ragione per cui, ecco, perché sennò sembra che... Però è più simile, diciamo che più, in campo si colloca diciamo meglio come vice Barella, ok? Perché l'Inter prende Zelischi per dare rispiro a Michitano, perché Zelischi può giocare. Ma rispetto a Barella però non fa quel lavoro senza palla, ecco. Però vi voglio fare questa piccola provocazione. Ma noi davvero adesso in questa fase della stagione è giusto ragionare così? L'abbiamo affrontato anche ieri questo tema con te, che sei un calcio mercatista, l'abbiamo già affrontato. Le squadre si presentano ancora incomplete, in ritardo, no? Con giocatori, ieri abbiamo sentito il commento che ha parlato, ha detto cose meravigliose, tutte positive, tutte belle. Ma ora anche chi ha fatto un bel mercato deve amalgamare tutto, no? Deve trovare i giocatori pronti in termini atletici, in termini mentali, in termini di rapporti. No, quello sì, vabbè, non è il caso dell'Inter. Non è il caso dell'Inter, però adesso vi voglio fare questo ragionamento. Ora, quando poi le squadre, diciamo fra un paio di giornate, si sistemeranno rispetto a questo trambusto del calcio mercato, avranno il secondo problema. Poi il terzo che affronteremo in Coppa, perché adesso abbiamo poche partite per discutere, non c'è stato ancora un errore arbitrale, non c'è nessuno, si è mai andato da qualche parte, sono stati insulti, ci sono stati… insomma, siamo ancora tra i culi in break, insomma, no? Allora, dobbiamo un po' entrare nel vivo della stagione. L'errore arbitrale c'è stato, ma molto subliminale. Tipo? Quale? in Inter-Lecce c'era stato, perché io non avrei dato quel rigore, mentre invece tutti hanno detto che era scontato le persone, non avrei dato il rigore. Ne abbiamo già parlato, veramente, da milanista, fatico a dover dare ragione all'Inter, ma quella è il rigore netto, dai. L'ha preso, l'ha buttato giù. Diciamo che… te la faccio passare stavolta, perché non ho voglia a settembre. per svinimento, perché sono le 23 tanti. Claudio intendeva il grosso… No, Claudio intendeva il grosso errore arbitrale, perché… Sì, ma infatti non era il grosso errore, è stato un errorino subliminale che è passato, perché ho visto che comunque se ne è dibattuto, e anche altri colleghi su Varo Testate hanno parlato di questo episodio. Certo, ma al di là ora di questo episodio, però, certo, poi l'anno scorso abbiamo passato giornate interne a discutere sul Varo. Vabbè, l'anno scorso è proprio un ecato. Ci siamo chiesti, quelli che sono seduti nella sala VAR, cosa vedevano, perché ci sono fatti pure queste domande, se vedevano o cosa vedevano. E quindi abbiamo parlato di un regolamento barocco, complicato, avete parlato prima della semplificazione burocratica per gli stati, io semplificherei anche il rapporto fra il video di campo e il Varo, perché è demenziale. Io parlo da uomo di televisione, lui conosce il mio punto di vista sul gioco, del calcio. Sono molto semplici filosoficamente, tu sei in campo e vedi delle cose o non le vedi. Se aggiungi una tecnologia è solo per vedere ciò che è in campo, non puoi vedere e dargli una mano. Questo è il termine della giustizia e dell'etica del VAR. Fuori da questi due piccoli parametri che ho detto, non esiste nient'altro. Adesso sono solo cose, diciamo, delle complicazioni. Prima parliamo del gomitolo che si svolge, del gomitolo che si arrovella nel cervello. Per cui va a finire che uno che magari butta per terra un altro lì davanti, il VAR dice non interviene, il canale dice non la bioteca. Ma non avremo modo di parlare. Protocollo. Non avremo modo di parlare. Quello che volevo dirvi è che il prossimo tema, secondo me, delle prossime giornate fra un mese sarà le troppe partite. Perché già lui l'ha detto, adesso vediamo innanzitutto anche il calendario degli impegni dell'Inter, l'abbiamo rivisto ieri ma lo rivediamo insieme, così almeno abbiamo l'idea. Sempre l'abbiamo fatta questa grafica fino alla prossima sosta della Nazionale in National League. del Monza, poi comunque il Manchester City, il derby, poi in casa dell'Udinese, poi la Stella Rossa e il Torino. Più semplice del Milan. Il medio-alto impegno. Più semplice del Milan. Sì, non clamoroso però. No, non clamoroso. Però adesso andiamo... La paura nazionale è 10 ottobre. Poi ce ne sarà un'altra a novembre, poi si gioca fino a Natale. Allora, il mio ragionamento rispetto ai giocatori che oggi trovano posto nei moduli, che non sono scritti nella pietra, no? E che poi alla fine ci sarà bisogno di tanti giocatori. E quindi tutti quanti troveranno a rotazione più o meno posto, no? Perché se no, non solo nel corso della stagione, ma anche nel corso delle partite. Perché le partite sono tante. Sono tantissime. Chiaro che tu col Manchester City giochi gli 11 che stanno meglio e vai col modulo perfetto. Ma poi le partite cambiano, hai bisogno di tanta gente. Perché poi giochi tante partite. E poi nessuno si deve fare male. Cosa che non è vero. Perché ci sono squadre che hanno delle infermierie a dicembre. Hai citato l'Inter. Hai citato, scusami Paolo, hai citato l'Inter, che è una delle squadre che andrà a giocare anche il mondiale per club. No, ma non si stima. Va bene, va avanti fino a metà luglio. Io ho fatto un conto veloce, stimando circa un arrivo ai quarti in Champions, sfioriamo le 70 partite. Che vuol dire un carico di lavoro. E però ne parliamo ogni anno di questo. E lo siamo sempre di più, Marcello. Sono sempre di più. Chi è, secondo voi, che lo deve risolvere? Dai. Io, secondo me, ce l'ho in testa chi lo deve risolvere. E' la federazione. Perché la federazione non si può nascondere dietro al dito del... Eh, ma la Lega, io non parlo, abbiamo parlato con quelli della Lega. La Lega non vuole, non vuole abbassare il numero delle partite, non vuole ridurre il format del campionato. Non è possibile così. Cioè, c'è qualcuno che si deve imporre. Però, Marcello, scusa, è a livello di FIFA e UEFA, perché il peso delle manifestazioni sono tutte internazionali. Cioè, il Mondiale per Club, la Champions allargata, la Nations League... Scusa, però adesso anche questa di FIFA e UEFA è una bella scusa. E tu sei dentro a quegli organismi, non puoi uscire, devi accettare. No, 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 un attimo. Beh. Perché, scusa, allora, lo stesso ragionamento avresti dovuto farmelo per l'introduzione del VAR. Il VAR è stata una cosa che ha proposto l'Italia ed è stata poi accolta da UEFA e FIFA successivamente. Sì, sì, ma lì... Quindi, vedi che alcune volte i campionati possono organizzarsi per il fattivo. Sì, ma il calendario è un'altra cosa. Ma vabbè, ma quando vogliono. Questo è un problema serio che riguarda la Serie A, ma riguarda anche tutti gli altri campionati. Potrebbe essere il primo campionato a farlo. E invece non lo fanno, perché gravità ti dice no, perché la Lega non vuole. E allora si difende. Io vi posso dire una cosa. Di che cosa vive... Torniamo al discorso degli Stati. Di che cosa vive il calcio? Di che cosa vive il calcio? Di partite. Di emozioni. No, sì, certo. Diciamo che questo è molto bello, molto politico, molto romantico. Di partite. Tante partite. Vive di comunicazione, di diritti. Quindi si deve giocare tanto perché si deve andare in TV più o meno libere, criptate, piattaforme o meno. Il calcio oggi è uno show mediatico. Per fortuna la gente è tornata negli Stati, che siano belli o brutti, dopo il Covid c'è stato questo fenomeno che è invertito. Noi abbiamo avuto gli Stati vuoti prima del Covid, che andava poca gente, che diceva forse di vedere le partite a casa con 100 telecamere, con i colori sempre più belli, con i 4K, sembrano sempre più no. Invece la gente oggi agli Stati ci va, proprio per quello che diceva lui, l'emozione dello show in diretta, per fortuna, è persistito nella fruizione del calcio. E' un paradossio. Questo salva molto del calcio. Ma a livello planetario, il calcio vive di eventi che vengono riprodotti e dati, si paga per darvi. Quindi più si gioca e più riconosce. Però sul fatto che ci siano molte partite, Ancelotti aveva fatto una provocazione, non so se tanto una provocazione, disse adesso devo organizzarmi, io ogni tanto mando un giocatore in vacanza, perché voglio staccarlo dal ritmo... Vabbè, lui se lo può permettere perché è una rosa piuttosto ampia. No, ma sto dicendo comunque, tornando a Bomba, dicendo che quando tu hai in programma di fare 70 partite, io credo che Frattesi possa trovare spazio. Questo era un po' il gioco che dicevamo. Allora, noi ci separiamo adesso, Zelischi funzionerà o non funzionerà in questa Inter, velocemente? Secondo me funzionerà perché è un ottimo giocatore. Sono curioso di scoprirlo. Sì. Tu? Penso di sì, però voglio vederlo in campo. Chirico, rapidamente, Zelischi sarà... è un bel acquisto? Sì, sì, è un ottimo acquisto. Un ottimo acquisto? Un ottimo acquisto. Pensato poi tanto tempo prima. Allora, noi ci separiamo per la pubblicità, poi parliamo della Juve, il rinnovo di Vlaovic, ci ritorniamo un po' su quello che ha detto Omele, vedremo un po' un attimo, insomma, anche qui il calendario della Juve fino al 10 ottobre, il livello di difficoltà. Chirico è contento, si è rianimato, prima l'ho visto... No, stavo pensando al rinnovo di Vlaovic. No, 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 non era inquadrato, ho visto delle cose che non posso raccontare, però insomma l'ho visto, sappi che l'ho visto. No, cosa ho fatto? Purtroppo vedo tutto, sai, io quando poi vado a moto nei convegni vedo anche chi entra dalla porta, dico chi è così. Sono rimasto fermo qua. Una volta quasi, io ho presentato i miei libri, non me li hanno comprati, perché ho detto chiudete le porte e mi disturbano quelli che entrano e che escono da 200 metri, diciamo ma quanto rompe questo, è un neurotico che guarda lì chi esce, quasi quasi voleva avere il nome e cognome di quelli che si erano alzati e erano andati via, quindi per antipatia non mi hanno comprati i libri, sono rimasti dentro, ti sono fatto un autogol, però io sono fatto così, quindi insomma, attenzione che guardo tutte le vostre… Senti, ma Chierico cosa ha fatto? Ce lo racconti in pubblicità? Ma non ho fatto niente, non so, non mi sono neanche alzato. Vabbè dopo te lo dico, ciao!